Allora, intanto ringrazio tanto l'università, Anna-Lisa e anche la professoressa Giustini per l'invito. Per me è un onore e un piacere essere qui oggi, soprattutto per il fatto che se non ci fosse questa vostra università io non esisterei. Ebbene sì, nel senso che i miei genitori un bel po' di anni fa si sono conosciuti proprio all'università dell'Aquila. Loro studiavano matematica, erano un po' di quelli strani, mi sa, che ogni tanto vedete a girarvi per la città, insomma un po' particolari. E quindi probabilmente io non sarei qui, perché tra l'altro mia madre è marchigiana, mio padre è di Sulmona, quindi originario abruzzese, e se non ci fosse stata l'università dell'Aquila non ci saremmo mai incontrati. Per me è un piacere venire a presentarvi un progetto che poco fa Anna-Lisa ha citato, che è proprio il progetto Meta Didattica. Ed è un progetto nato circa una decina d'anni fa, grazie a mia madre, che è insegnante delle scuole medie, ormai in pensione, lei ce l'ha fatta andare in pensione, chissà se qui dentro ci sarà qualcuno che andrà in pensione, probabilmente sarà uno di quelli strani, tipo quelli che studiano matematica, e mi aveva stimolato all'inizio del mio lavoro, quindi poco più di dieci anni fa, a applicare quello che stavo studiando al contesto scuola. Io all'inizio, non vi nascondo, che l'ho un po' snobbata, nel senso di, insomma, mi sono detto chissà quanto possa risultare interessante studiare alcune dinamiche relazionali poi anche a scuola, e col seno di poi in realtà aveva più che ragione, tanto che mi sono appassionato e è nato più di dieci anni fa il progetto Meta Didattica. L'obiettivo del progetto Meta Didattica è curare, o prendersi cura, o dare supporto alle relazioni scolastiche, quelle che vedono sicuramente gli insegnanti al centro, al centro di una rete molto fitta di relazioni. Voi come futuri insegnanti, oppure magari qualcuno di voi già ha lavorato, oppure ha avuto esperienze di insegnamento, sapete che le complessità in un contesto come quello della scuola sono altissime, complessità dovute anche soltanto all'età anagrafica dei vostri interlocutori o futuri interlocutori. Avrete a che fare con bimbi o ragazzini, studenti quindi, giovani, con adulti, adulti di vario tipo, perché ci sono i genitori, ci sono i colleghi, c'è il dirigente, sono magari dei gruppi, gruppo docente che dovrete coordinare, Insomma, la complessità è alta. Tra l'altro, non so se lo condividete con me, se posso fare questa generalizzazione, però probabilmente una delle missioni dell'insegnante, di un educatore, è guidare o accompagnare lo sviluppo, la crescita, l'evoluzione dei propri studenti. E quindi, quasi per definizione, voi vi troverete in un contesto che è in continuo mutamento. Anzi, se fosse fermo, bloccato, probabilmente ci sarebbe qualcosa che non va. Quindi, le complessità davvero aumentano. I fattori moltiplicativi delle complessità che dovrete gestire saranno tanti, tanti. Quindi, avere dei riduttori di complessità, come citava prima Annalisa, delle strategie che non sono né dei trucchi né delle, come dire, né pretendere di trattare le relazioni in maniera fredda e calcolatrice, assolutamente no, però delle strategie e degli orientamenti che possano in parte semplificare l'azione didattica educativa del docente potrebbe essere un'opportunità. E quindi, sono qui oggi per presentarvi un pezzettino del lavoro che Meta Didattica ha curato negli ultimi dieci anni, tra l'altro grazie a centinaia e migliaia di insegnanti che, con un continuo confronto, ci hanno restituito quali sono le complessità e le difficoltà più comuni nel contesto classe, ma non solo. Io, come vi dicevo, mi occupo di formazione, questa è la mia professione, mi occupo di formazione per adulti, quindi non mi occupo di pedagogia, ma di andragogia, quindi ovviamente le dinamiche sono un pochino diverse, però vi ripeto, mi occupo di formazione per adulti che hanno a che fare con ragazzi o bambini che stanno percorrendo il loro itinerario scolastico e sono in una fase di sviluppo molto particolare. Mi chiamo Alberto, vi ha già detto Annalisa che mi chiamo Alberto, Alberto De Panfilis, quindi magari qualcuno riconosce la provenienza abruzzese, perché vi ripeto, mio padre è originario di Sulmona, e quello che vorrei fare con voi oggi è capire in che modo provare a darci proprio qualche strumento già da poter utilizzare da subito, nonostante voi in questo momento, o magari la maggior parte di voi, siano studenti, quindi non abbiano già relazioni con delle classi. Però vedremo che alcuni degli strumenti che condivideremo potrebbero essere utilizzati anche con profitto in altri contesti. E poi dopo questo però lo giudicherete voi. Prima di iniziare mi farebbe piacere sapere come mai siete qui, cioè chi ve l'ha fatto fare, cioè al di là del tirocino in diretto, ho capito bene? Quindi di ore, insomma, di fatto che dovete esserci, però mettiamo da parte questo aspetto. Cosa vi aspettate da un incontro del genere? Cioè quando avete magari letto sulla locandina, non so se avete beccato la locandina, oppure se vi è stata mandata qualche comunicazione, che ci saremmo occupati di cambiamento strategico nei contesti educativi e in particolare abbiamo proposto, vi vogliamo proporre un contributo per la gestione dei comportamenti oppositivi provocatori. Che vi aspettate? Cioè cosa può essere utile per voi? Cosa dovrebbe accadere in queste sei ore e mezzo? Perché sapete che finiamo alle 17.30 e, sto scherzando, vedevo già persone impallidite così che iniziavano a chiamare per la pizza, tanto qui non prende, quindi comunque sarebbero i vasti digiuni e digiune. Cosa vi aspettate? Cioè cosa dovrebbe succedere oggi, in queste due ore, perché abbiamo fino a luna, perché voi possiate avere la sensazione che ne sia valsa la pena? Datemi qualche contributo. Tanto se vi sento io, se vi sentite voi, dovrei sentirvi anche io. Ditemi. Che vi aspettate? Cioè cosa dovrebbe accadere o cosa non dovrebbe accadere? Pratiche, spendibili. Ok, il tuo nome, se posso? Giulia? Ok, io vi posso dare del tu? Possiamo darci del tu? Ok? Se qualcuno non vuole del tu, gli darò del voi per punizione, così imparate. Quindi Giulia dice qualcosa non soltanto di nozione, nozionistico, teorico, ok, ma spendibile, pratico. Ok, grazie Giulia. Altro che vi aspettate? Anche delle situazioni, cioè se avete già vissuto delle situazioni, magari proprio come insegnanti, perché avete già avuto o tuttora avete delle esperienze di rapporto con dei gruppi, dei gruppi informazione. Poi potrebbe essere, faccio l'esempio, se qualcuno di voi, che ne so, è istruttore di nuoto, in realtà già sta avendo, no, o ha avuto dei contatti con dei gruppi informazione. Sicuramente diversi rispetto al contesto classe, però comunque c'è un gruppo di persone che sono lì, in qualche modo, per imparare qualcosa. Cosa altro vi aspettate? Interessante, questo mi piace, è uno spunto che non avrei mai... Degli strumenti per potersi rapportare con dei bambini che hanno un po' dei comportamenti così, perché molte volte uno non sta proprio a comportarsi con un campagna. Ok, ok, il tuo nome se posso? Simona, Simona dice, proprio degli strumenti per rapportarsi con quei bambini che hanno comportamenti oppositivi, provocatori, o comunque disfunzionali, poi parlando pane al pane e vino al vino, dei comportamenti difficili, che in alcuni casi sono proprio comportamenti anche antipatici, cioè dei comportamenti che riescono a smuoverti il sistema nervoso, ok? Quindi come possiamo rapportarci con questi momenti, questi episodi, e poi questi bambini, cioè anche con la persona, no, che poi li mette in campo? Ok, grazie Simona. Qualcos'altro? Stiamo facendo una micro lista della spesa, eh? Si avvicina a Capodanno, se non mettete in lista quello che vi piace, poi al cenone va attaccato e non c'è, eh? C'è qualcos'altro? Io sono insegnante della scuola dell'infanzia, spesso vi capita che appunto quando ci sono questi bambini il resto della sezione dice con lui non vogliamo giocare, cioè come lavorare sugli altri bambini perché questo bambino possa essere inserito nella relazione. Il tuo nome? Sabrina. Sabrina dice anche avere qualche spunto per, sì, gestire il comportamento in quel momento, ma prendersi cura anche della relazione che poi quel bambino ha e avrà con il resto della classe che potrebbe tendere per reazione a escluderlo un po', perché comunque se è pesante per noi, insomma, potrebbe essere pesante anche per i compagni di classe. Altro? Qualcos'altro che mettereste nel carrello? Fra un po' andiamo in cassa, eh, quindi... Sì? Una considerazione spavendo anche a me, siccome tu prima hai nominato la gestione di relazioni anche tra adulti, intanto nei confronti dei bambini e delle classe, mi chiedo come potrebbero, come si potrebbe favorire una collaborazione tra insegnanti per far seguire loro una stessa linea a famiglia, è difficile, lo so, però comunque molto spesso i problemi all'interno delle classe nascono proprio per un accordo educativo e non una comunicazione comune, comunicazione comune è un pasticcio di parole tra insegnanti. Ok, Annalisa dice, come far sì che dal momento in cui abbiamo parlato di relazioni scolastiche anche tra adulti, no? Per esempio tra colleghi, tra colleghi che ciascuno giustamente ha la propria autonomia, no? La propria testa, il proprio modo di ragionare o le proprie anche abitudini, abilità, esperienze, si riesca a andare in una direzione non univoca ma comunque comune, insomma, riuscire a creare delle sinergie, ok? Quindi apriamo anche questo tema, comunque proviamo a farlo nel pochissimo tempo che abbiamo a disposizione. Altro? C'è qualcos'altro che mettereste nel carrello? Perché finora nel carrello abbiamo, Giulia diceva qualcosa che, come dire, sia spendibile, pratico e non soltanto nozionistico, teorico, poi Simona diceva come fare a avere a che fare proprio con questi comportamenti, no? Che risultano disfunzionali. Sabrina, giusto? Sabrina diceva sì, ok, quel comportamento ma anche il resto della classe che in qualche modo ne resta influenzata perché siamo in un sistema e poi allargando ancora di più la prospettiva sistemica anche con gli adulti, con i colleghi, cioè come facciamo a creare una linea comune oppure comunque una sinergia, cioè andare in direzioni sinergiche. Mettereste qualcosa? Mancano i genitori, ok, mettiamoci di questi genitori, in particolare cosa? Nel rapporto scuola-famiglia, insegnando i genitori nel gestire tutti questi problemi. Ok, il tuo nome? Elisabetta. Elisabetta aggiunge la prospettiva verso i genitori perché nei rapporti scuola-famiglia a volte insomma ci sono delle complessità, delle difficoltà o comunque anche delle preoccupazioni, no? Che in qualche modo dovranno essere governate. Io non credo di, dal mio punto di vista, poi ripeto ci confronteremo alla fine dell'incontro su quanto sarà emerso in queste due ore. Non credo di peccare troppo di presunzione dicendovi che gli strumenti a cui accenneremo, perché poi dopo insomma ci vorrebbe pratica per sviluppare competenze, però gli strumenti a cui accenneremo e sui quali apriremo anche volendo un confronto, un dibattito, perché poi mi farebbe piacere con voi continuare a chiacchierare, a confrontarci su questo tema, possono essere applicabili alle relazioni. Quindi posso applicarla alla relazione con un bambino, alle relazioni con un collega, alla relazione con un genitore, alla relazione che ho col gruppo classe, anche se lì poi l'eterogeneità a cui faceva appello Annalisa stamattina comunque va presa in considerazione, quindi probabilmente ci costringerebbe o ci porterebbe, inviterebbe ad aggiungere degli elementi in più e quindi potete vedere, potrete vedere gli strumenti che condivideremo oggi come modi di rapportarci a più interlocutori, ok? A prescindere dall'età. Poi, come dico sempre ai gruppi di insegnanti che incontro, perché io vi dico solitamente il modo in cui lavoro, per farvi anche immaginare ciò che faccio, è molto spesso 99 su 100 quando incontro insegnanti nelle scuole e sono gruppi di insegnanti eterogenei, quindi ci sono dalla scuola dell'infanzia, di solito alla secondaria di primo grado, perché magari è un istituto comprensivo, oppure potrebbero essere anche fino a secondaria di secondo grado, perché magari è un gruppo di insegnanti che si è organizzato e ha scelto di partecipare a un incontro. Quindi molto spesso mi rivolgo a gruppi eterogenei, a mia volta, e quello che invito a fare è ciascuno con la propria esperienza ad adattare nelle modalità gli strumenti che condividiamo agli interlocutori che si ritrovano davanti. Quindi è sicuro che Sabrina adatterà in maniera differente rispetto alla scuola dell'infanzia, rispetto a come potrebbe fare un insegnante di scuola primaria o Annalisa con i bambini di quinta, se non sbaglio sei in quinta adesso, con i bambini di quinta, perché sono età diverse, quindi linguaggi diversi, modalità differenti, però la guida logica che condivideremo oggi si presta a poter essere utilizzata anche proprio su più età. D'accordo? Ovviamente dovrete personalizzarla voi sulla base della vostra esperienza, se già la avete, o su quella che maturerete e starla facendo. Detto questo, vi faccio vedere alcune immagini e mi dite, dal vostro punto di vista, ne ho scelte a caso ieri, quindi non sono immagini d'archivio luce, sono proprio immagini anche un po' stereotipate, però vorrei stimolarvi su qualcosa e poi chiedervi dopo queste quattro immagini cos'è che c'è in comune tra le quattro immagini, ok? Questa potrebbe essere una prima immagine. Ognuno si farà la sua idea e probabilmente la interpreterà anche in modo forse un po' diverso, no? rispetto a qualcun altro. Poi abbiamo quest'altra immagine, poi ne abbiamo un'altra, ok? E poi diciamo così, accomuna o potrebbe accomunare queste immagini. Abbiamo a che fare con gruppi, singoli? Dal vostro punto di vista, rispetto all'esperienza che avete maturato fino ad oggi, sia come insegnanti o comunque come studenti, cos'è che in qualche modo di fronte a questi scenari, di fronte a questi momenti, di fronte a queste situazioni un insegnante potrebbe, come dire, cercare, secondo voi. Se io mi ritrovo di fronte, che ne so, a una bimba oppure uno studente, una studentessa che sta vivendo quel momento, a me se non concesso che riesca a interpretarlo bene, perché sapete che mediamente l'1,5% della popolazione mondiale non verbalmente talentuosa. Ciò vuol dire che il 98,5% sente qualcosa, ma non sempre ciò che sente è quello che potrebbe un esperto di comunicazione non verbale deporre anche come perizia, per intenderci, visto che sapete che la comunicazione non verbale può essere utilizzata come perizia. Poi in alcuni paesi ha valore di prova legale, in altri no, però è scientificamente molto affidabile, molto più rispetto per esempio al poligrafo, sapete no? La macchina della verità, il poligrafo, non so se qualcuno l'ha mai sentito parlare. Qualcuno di voi è mai, diciamo, è stato mai indagato? Ovviamente non lo direbbe adesso, quindi il poligrafo lo rileverebbe, ma ok. Quindi voi vi trovate di fronte a una situazione del genere, cosa, cioè da insegnanti, ma poi in generale da persone, perché magari facendola un pochino più cresciuta questa bambina, potrebbe essere anche un collega, no? Che magari non con quel broncio. Non valutare la foto? Non valutare la foto, ditemi voi. Se il bambino, per molto tanto, nel senso quello mi fa capire che è arrabbiata, ma può essere un momento. Quello è un momento, un istante, ok. Che si ripete. Naturalmente non possiamo valutarlo adesso dopo. Sì, certo, certo, certo. E' normale che anche quel bambino mi sembra imbrunciato, arrabbiato, allo stesso modo, non vedo adesso, non riesco a... Ok, il tuo nome? Valeria. Valeria. Perché non potrei parlare. Sì, sì. Bene, grazie, mi piace questa riflessione, perché Valeria dice, io da una foto, insomma, non ho idea di cosa sia accaduto prima, se è un percorso, se è un momento soltanto, se è un periodo, no? Benissimo, però facciamo finta, facciamo finta che voi conosciate quel bambino, che sia un vostro studente e lo vedete, magari durante la ricreazione, così. Ma anche un po' diverso, adesso non, diciamo, non vi sto chiedendo come fare, intervenire in un momento di... Come lo chiamereste, quello? Che sta provando quella bambina? Ok, qualcuno dice, è arrabbiata. Qualcun altro? Sfida, ok. Qualcun altro ancora? Provocazione, ok? Ve la faccio vedere più grande, perché era lei, la foto è la stessa. Anche chiusura. Benissimo, disgusto. Qualcun altro? Ok, vedete quanto, tra l'altro, quanto è complessa la cosa, no? Perché io comunque, ciascuno di noi ha, magari vive anche delle sensazioni differenti di fronte a una scena del genere, che poi sarebbe in movimento, come giustamente ci ricordava Valeria. Però da insegnante, voi che fareste? Una delle cose che potreste fare, perché non sarà l'unica, no? Però che cosa vi verrebbe da fare? Parlarci, chiedere perché, che è successo. Insomma, comunque, immagino che vi verrebbe da interagire, giusto? Ok. Di fronte a questa situazione qui, che cosa vi verrebbe da fare? Qualcuno parlerebbe più col gruppo, il tuo nome? Rosalba. Rosalba dice, parlerei più col gruppo, insomma, no? Ok, però comunque, immagino che fareste qualcosa, giusto? Poi ognuno farebbe cose un pochino diverse, qualcuno più col gruppo, qualcuno andrebbe più magari dalla bimba e poi dopo magari parlerebbe dopo col gruppo, insomma. Però comunque, in qualche modo, cos'è che le accomuna queste situazioni? Per l'esigenza di intervenire, cioè, ci siete? Ma quando io intervengo in una situazione del genere, in una di queste situazioni, a prescindere, ma volendo anche se uno di questi bimbi, di questi soggetti fosse euforico, quindi stesse vivendo una buona sensazione, quindi una sensazione per lui positiva che però possa influenzare il gruppo classe, faccio l'esempio, oppure possa influenzare voi, no? L'intervento sarebbe non tanto a tirarlo su, perché sarebbe eventualmente a, come dire, chiedergli di comportarsi in maniera differente. Quindi in tutti questi casi, quello che, vi avevo già spoilerato perché mi era andata avanti una slide, qualcuno immagino che l'abbia notato, cos'è? Come, non l'avete notato? Mannaccia la misè! Cambiamento, esatto, cioè qui la cosa che accomuna tutte queste situazioni, in un verso o nell'altro, è la ricerca, come adulti di riferimento e come responsabili di quel momento, di quel contesto, è promuovere un cambiamento. Non stiamo dicendo come farlo ancora, però siete d'accordo sul fatto che abbiamo bisogno che accada un cambiamento. Giusto? Ok. Ora, la cosa sulla quale dobbiamo, tra virgolette, far pace, mi viene da dire così, ed è un po' il nucleo dell'incontro di oggi, è che ad ogni cambiamento cosa corrisponde, secondo voi? Una reazione, qualcuno dice una strategia? Una scelta? Di chi? Di chi vuole promuoverlo o di chi dovrebbe viverlo quel cambiamento? Di entrambi, ok. Ok, quindi Giulia diceva una strategia bisogna mettere in campo. Tuo nome? Delfina. Delfina dice che c'è una reazione, da parte di chi? Di entrambi, quindi sia di noi adulti che del bimbo, della bimba, della classe magari, del gruppo. E lì come ti chiami, come ti chiami, come ti chiami? Valentina. Valentina dice, cosa che dici Valentina che mi sono perso? La scelta. La scelta, giusto, grazie, la scelta, la scelta di entrambi, tra l'altro, giusto? Ok. Ora, c'è qualcos'altro che sul quale vorrei porre la vostra attenzione, ma volendo anche in natura, quindi potremmo scendere addirittura a scale molto molto piccole, a livello cellulare. Ok, io prendo una, guardo una cellula della mia pelle, faccio un esempio, se succede un cambiamento intorno a lei, che succede? Sì, ok, quello che sta intorno cambia, ma la cellula cosa cerca di fare? Forse dopo, ma all'inizio? Cioè, se scende la temperatura dell'ambiente, se scende la temperatura dell'ambiente e quindi qui ci saranno, che ne so, 20 gradi? 19 forse? Ok, 19 gradi, probabilmente la mia pelle deve, oppure una cellula interna, dovrebbe essere intorno a 36 gradi, giusto? Quindi mette in atto da una serie di meccanismi che puntino a? Ok, a reagire. Come? Si difende, protegge, ok? Però queste sono interpretazioni, nel senso che in realtà la cellula non è che vive un attacco, semplicemente si organizza e... Se a un certo punto arrivano 45 gradi, quindi sale la temperatura, la cellula che fa con la sua temperatura? Cosa cerca di fare? Sì, ma di fare che? 36 gradi? Poi noi non siamo lucertole, siamo animali a sangue caldo, quindi tendenzialmente se ci misuriamo la febbre, sia che fuori ci siano 5 gradi, sia che sia estate con 40 gradi, la temperatura, a meno che non siamo male, quindi non abbiamo, non siamo febbricitanti, dovrebbe essere più o meno come? Costante, giusto? Ok, grazie Annalisa che... Ok? Quindi, che cavolo succede? Cioè se la temperatura sale, quella temperatura scende, ma volendo potrebbe esserci anche il pH intorno dell'ambiente o altri fattori, la cellula cosa cerca di fare? Di restare stabile, giusto? Si chiama omeostasi, sicuramente l'avete studiato, giusto? No? Dai, oh, pure alle scuole superiori, ma volendo pure alle medie, l'omeostasi. Quindi omeostasi vuol dire cercare di mantenere statico qualcosa che è funzionale. Ora, se io cerco di promuovere un cambiamento nel gruppo classe, cerco di promuovere un cambiamento anche nell'individuo, ma anche nell'amico che al bar mi parla di una situazione che sta vivendo e che lo preoccupa, cioè in questo momento lo manda in crisi, e gli do un consiglio o le do un consiglio. Immagino che vi sia capitato sia di darne, giusto? Che di riceverne. È così facile attuarli? A meno che, diciamo ovviamente non sia già qualcosa che voi fate. Però se voi con quella persona non ci avete mai più parlato perché il vostro amico o la vostra amica vi dice, vabbè ma guarda, parlaci dai. Per voi è super semplice andare a parlare poi con l'amica? Insomma, c'è un pochino di difficoltà. Quindi il punto sul quale vorrei arrivare è che ciascuno di noi come individuo, ma ripeto volendo, pure a livello cellulare, cioè la natura è un po' fatta così, tende a vivere delle resistenze al cambiamento. Ci siamo? Ok? Beh mai capitato di vivere resistenza al cambiamento? A livello personale? Vi faccio un esempio. Avete mai visto il modello K, quello che c'è dietro la mia schiena? Sì sì, tanto, ah tra l'altro poi vi dico, vi mando il materiale, però potete fare foto, se volete fare foto non c'è problema. 5 euro a foto, Valeria non è un problema, fa per te 6 euro perché ti faccio un prezzo di favore. Quindi, avete mai sentito parlare del cap? Allora, qualcuno ha mai sentito parlare della zona di comfort? Quella sì, quella ci hanno rotto le scatole in continuazione tutti. Cos'è che di solito si dice della zona di comfort? Cos'è idealmente la zona di comfort? Una zona in cui ci troviamo al nostro agio e facciamo fatica a uscire. Ok. Ni, nel senso che ti chiami? Angelica. Ok, Angelica dice, è una zona in cui ci sentiamo al nostro agio e dalla quale facciamo fatica a uscire. Ni, nel senso che mi farebbe piacere proporvela e presentarvela come questa qui, che non so se riuscite a vedere, è verdina, forse si distingue poco rispetto a questa ciambella azzurra che viene dopo, ma questa zona qui, che chiamiamo zona di comfort, è quella che contiene idealmente tutte le nostre abilità o in alcuni casi tutte le nostre abitudini. Perché ci sono dei più e dei meno dentro? Perché alcune di queste abitudini ci piacciono, quindi ci fanno anche sentire il nostro agio, altre non ci piacciono neanche tanto. Faccio un esempio, nella mia zona di comfort c'è fare una passeggiata in montagna, perché l'ho fatta tante volte, quindi ogni volta che vado in montagna non è per me un... cioè, vado, insomma, anzi, magari se faccio il giro che sono abituato a fare, no? Mi sento anche a mio agio nel farlo, a meno che non succeda qualcosa di strano, ovviamente. Però nella mia zona di comfort c'è anche passare lo straccio a terra a casa. Ma non so se c'è qualcuno di voi appassionato nel passare lo straccio, però a me personalmente, ad Alberto, non è che piace a granché. Quindi magari è uno dei miei meno che sta dentro, in termini di gradimento. Però comunque fa parte della mia zona di comfort, l'ho fatto che ne so quante centinaia di volte, quindi tendenzialmente, ormai non è che ogni volta che devo tirar fuori lo straccio, il secchio, mettere il detersivo, strizzare, sto lì che mi faccio mille paranoie, dico chissà come devo fare, cioè lo faccio e basta, giusto? Fuori da questa zona di comfort invece c'è quella ciambella che noi chiamiamo zona di apprendimento, quindi K è un acronimo, no? Comfort, apprendimento, panico. Apprendimento che vuol dire? Vuol dire che ciò che c'è là fuori come? Eh, quindi quello che sta lì fuori, per ora che per me sta ancora lì fuori, non lo so ancora fare, giusto? Perché potrebbe rappresentare per me un'occasione di apprendimento, cioè fare una cosa nuova, poi magari potrebbe essere un comportamento elementare, potrebbe esserci una nozione che ad oggi non conosco e potrei apprendere, ok? Quindi ci sono vari tipi di apprendimento, però comunque c'è qualcosa che io ancora non padroneggio, non è nella mia zona di comfort. Come mi sento lì fuori? Quando mi ritrovo ad uscire? Un po' a disagio, poi avrà varie sfumature, varie declinazioni, giusto? Però comunque un po' mi sento a disagio, perché? Perché la RAM della mia testa inizia a succhiare energia, si accende la ventolina, avete presente quando sul computer accendete un bel po' di cose? Lo mettete un pochino sotto stress e inizia a scaldare. Ecco, allo stesso modo noi quando usciamo fuori dalla zona di comfort e finiamo in zona di apprendimento, il carico cognitivo che ci è richiesto è molto più alto, perché non siamo abituati a gestire quella situazione o quel comportamento, quelle nozioni. Ci siamo? Benissimo. Se dovessimo ritrovarci ancora più lontani dalla nostra zona di comfort, quindi non solo finire in zona di apprendimento, ma allontanarci ancora di più, quindi dover gestire ancora più novità, ancora più elementi stressogeni volendo, potremmo finire in quella che viene chiamata zona di panico, che non fa riferimento agli attacchi di panico, perché quella è una situazione clinica specifica di cui hanno competenza gli psicoterapeuti, ok? Ma comunemente la chiamo zona di panico perché io in zona di comfort come agisco? Sì, poi mi piaccia o non mi piaccia, però comunque vado via abbastanza sciolto, giusto? Perché l'ho fatta tante volte. In zona di apprendimento com'è che agisco? Sì, qualcuno con l'ansia, qualcuno con la fatica, qualcuno gli sudano le ascelle, qualcuno con un po' di sbuffamenti, però comunque c'è il sovraccarico. Quando sono ancora più fuori, in zona di panico, non agisco più, ma sì, che è una delle reazioni, cioè reagisco, reagisco tra l'altro in automatico, non è che lo scelgo e posso reagire in una di queste tre modalità. Noi abbiamo di solito, ci scappa, cioè ci viene il cosiddetto freezing, che vuol dire frizzarsi? Bloccarsi, quello che diceva prima. Diletta. Quindi diletta dice, a volte mi blocco, cioè mi ritrovo in una situazione in cui lì per lì, poi il blocco può essere sia fisico, cioè un irrigidimento, ma anche mentale, cioè, che ne so, per qualcuno l'esame, non so se vi è capitato, a me è capitato, che magari tu avevi delle nozioni, delle cognizioni, che in quel momento però non erano proprio fluide, cioè erano proprio tipo il pongo quando lo cominci a maneggiare, che è durissimo, cioè sta incastrato proprio, vi è capitato? Ok. Oppure c'è il cosiddetto flying, che vuol dire to fly? Volare. Quindi ovviamente è un volare metaforico nel senso che c'è un evitamento. Evitamento vuol dire un rimandare, un evitare, un mandarci qualcun altro, a volte anche un sviare il discorso. Mi è mai capitato? Sì, diecimila volte ci capita spessissimo. E poi c'è la terza reazione che a volte si combina anche con le altre, non sono isolate l'una dall'altra, che è il cosiddetto fighting. Che vuol dire to fight? Combattere, aggredire, bene, che per fortuna molto spesso e la maggior parte delle volte non è un'aggressione fisica, ma si manifesta come? Verbalmente, cioè nel senso potrebbe essere la rispostaccia, la domanda provocatoria, il confronto. Scusa perché tu l'altra volta non hai fatto lo stesso? Avete presente? Oppure in alcuni casi alzare il volume, aumentare il ritmo dell'eloqui o magari a volte dire anche un po' di parolacce, insomma, conosciamo. Vi capita ogni tanto? Bene. O sto parlando non di quelle volte in cui scegliamo di essere molto netti, alzare la voce e mandare a quell'altro paese qualcuno. Vi faccio un esempio. Qualche mese fa ero in pronto soccorso di notte con mia moglie a Bologna, che noi abitiamo a Bologna, a Sant'Orsola, e a un certo punto c'era una ragazza che era in evidente stato confusionale, probabilmente credo che fosse anche un pochino come dire, presa da alcune sostanze, e un medico che era di guardia, a un certo punto l'ha proprio trattata, tra virgolette, generalizzo male, cioè è stato molto 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 forte nel chiederle, imporle, di sedersi, perché giustamente lei stava andando in giro per i corridoi urlando come una... e quindi c'era gente che stava male, di tutte le età, insomma non era proprio il caso. Probabilmente, il film che mi sono fatto io osservando dall'esterno questa scena, quella del medico non è stata una reazione, cioè non è che questo qua ha perso la patenza, andato là, ha fatto, oh e rotto le scatole, ti devi sedere, ma probabilmente tra le sue competenze, e quindi addirittura in zona di comfort del medico, fa parte il rivolgersi a un paziente che in quel momento fa fatica a ragionare con te per contenerlo e farlo sedere in modo che stia meglio lui e stiamo meglio gli altri, d'accordo? Quindi non è il comportamento in sé che definisce se stiamo di fronte a una reazione o meno, ma è il fatto che ci stiamo con la testa, d'accordo? In alcuni casi noi scegliamo di fermarci e di non rispondere a qualcuno, non perché non sappiamo cosa dire, ma perché preferiamo magari rimandare, o proprio lasciar perdere, vi è capitato? Ok, quindi qui la differenza è che se siamo in zona di comfort agiamo e agiamo anche, tra virgolette, con un filo di gas, cioè comunque va abbastanza fluida la cosa. In apprendimento, quindi quando siamo fuori zona di comfort agiamo ma è faticoso perché il sovraccarico c'è e poi c'è in zona di panico se andiamo ancora più là, ci ritroviamo ancora più là, dove o ci blocchiamo o evitiamo oppure aggrediamo. Ora, quando siamo in una situazione in cui stiamo qua dentro, uscir fuori abbiamo detto costa resistenze, costa fatica e quindi voi immaginatevi che qui intorno ci sia una sorta di bolla, io me la immagino come il crystal ball, ce l'avete presente il crystal ball? Ce l'avete mai giocato col crystal ball? Sì? Chi è che non ci ha mai giocato? Fuori. Cioè non avete mai giocato a crystal ball, col crystal ball? No, io alzo la mano per invitarvi a alzare, no vabbè dai, crystal ball, quella roba lì, quel tubetto che metti sul tubicino poi soffi e fa la pallina, ecco, immaginatevi una patina che in qualche modo ogni tanto ci fa rimbalzare dentro. Ora, queste resistenze le vivono anche i bambini o la classe o un collega al quale chiediamo un cambiamento. Cioè se fino ad oggi per te è pur se disfunzionale un'abitudine, che ne so, alzarti e fare un po' come ti pare senza chiedere il permesso, faccio un esempio, chiederti di sederti o di alzare la mano per chiedermi di alzarti, siete d'accordo che è come chiederti di uscire fuori dalla tua attuale zona di comfort. Vi fila? Sì? Ok. Quindi noi dobbiamo come educatori, come responsabili di un gruppo, come colleghi di lavoro, come persone in generale, fare pace sul fatto che quando chiediamo un cambiamento a qualcuno e tra l'altro quando siamo pagati per chiedere un cambiamento a qualcuno, perché del vostro stipendio una parte è anche data per il fatto che governate un cambiamento continuo e costante, dicevamo all'inizio. Saremo di fronte a delle resistenze. Ok? Io do il consiglio all'amica, è come se le stessi invitando a cambiare quello che le viene ad oggi spontaneo fare in quella situazione. Quindi probabilmente l'amica non è che il giorno dopo si sveglia e fa quello che le abbiamo consigliato, perché insomma le costerà fatica. Se, faccio un esempio che magari ha accomunato molti di noi, se nella mia zona di comfort ci fosse l'abitudine a non fare attività fisica, ok? E fuori dalla mia zona di comfort, nella zona di apprendimento ci fosse l'abitudine, sviluppare l'abitudine di fare attività fisica due o tre volte a settimana, faccio un esempio, beh è capitato ogni tanto che iniziare a fare quell'attività fisica con quella costanza non riesce così fluido? È capitato? Ok. Tenendo conto tra l'altro che non sempre le resistenze sono palesi, cioè non sempre io quando sto infilandomi le scarpe per uscire fuori a fare due passi o a fare una corsa, se non ce l'ho come abitudine, dico, nella mia zona di comfort, non sempre mi dico, no, che pizza, guarda, non mi va, non c'ho voglia, sì, sarò negligente, ma non mi va, mi costa fatica, non c'ho voglia. A volte noi queste resistenze le travestiamo da preferenze, cioè della serie, mi sto infilando le scarpe, guardo fuori e dico, aglia, un po' velato, vedi, poi tra l'altro tira anche una rietta, no, la settimana scorsa sono stato col mal di gola, mi sa che è meglio che oggi non vada. È capitato ogni tanto? Ok. Noi ce la raccontiamo come se fosse una preferenza, cioè preferisco non uscire perché ho valutato che, ma potrebbe essere, potrebbe, uso il condizionale, essere frutto di una resistenza. Devo fare l'esame, però guarda, siccome comunque sono studente assennato e modello, so che non ho studiato sufficientemente bene, quindi guarda, preferisco l'appello dopo, è capitato ogni tanto? Beh, quella potrebbe essere frutto di una resistenza, d'accordo? Quindi, anche quando non sembra, non è evidente che siamo di fronte a una resistenza, è possibile che in realtà ci troviamo di fronte a una situazione del genere. Quindi faccio l'esempio, se io mi trovo di fronte a un comportamento che per ora chiamiamo disfunzionale, ok? Quindi cerco di togliere di mezzo questa denominazione positivo-provocatoria, perché secondo me rischia di essere un po' limitante e poi vedremo perché. Un comportamento disfunzionale, disfunzionale per il bimbo, disfunzionale per la classe, disfunzionale anche per me, disfunzionale, cioè che non secondo la mia esperienza va bene in quel momento e chiedo di fare in maniera diversa, intervengo, sto generando un cambiamento, quantomeno il mio proposito è generare un cambiamento. In alcuni casi questo cambiamento scorre un po' più fluido, perché magari sto chiedendo un'opzione che la persona già ha nella sua zona di comfort. Altre volte invece chiedo un costo piuttosto ingente, in termini emotivi, altre volte il costo è cognitivo, altre volte il costo è proprio fisico, cioè fisicamente è un costo magari restare seduti per qualcuno che ha l'abitudine a muoversi spesso, o al contrario per chi tende ad essere più sedentario muoversi, è un costo sempre fisico e così via. Ci siamo fin qui? Bene. Quindi quello che noi possiamo fare è, anziché guardare i comportamenti che spesso vengono definiti oppositivi provocatori come dei comportamenti che magari hanno, alla base potrebbero avere o un disagio o un'intenzione, faccio l'esempio di provocare, possiamo vederli, vi vorrei proporre di vederli come delle resistenze a un cambiamento che o noi o la circostanza sta chiedendo a quella persona che poi tira fuori quel comportamento. Ci siamo? Quindi vi chiedo di vederla insieme da una prospettiva un po' diversa. E quindi qui si apre il tema delle resistenze. E vado un attimo di qua. Quando qualcuno punta i piedi, tra virgolette, siamo di fronte a una resistenza. Mettiamoci d'accordo intanto su che cosa vuol dire e poi faccio un attimo un passo indietro. Queste slide, ripeto, poi dopo vi dico come prenderle, come trovarle. Allora, già l'abbiamo detto, qualsiasi sistema, se mosso dal suo equilibrio, tenderà a restare nell'equilibrio e quindi se mosso opporrà una resistenza. D'accordo? Di solito l'omeostasi tiene conto del benessere della persona che in quel momento la vive nel breve termine. Faccio un esempio. Io quando sto per uscire fuori a fare una corsetta e c'è qualcosa che mi tiene dentro casa e quindi punta la mia meostasi comportamentale, quel meccanismo mi sta salvaguardando nel brevissimo termine perché mi permette di risparmiare su un costo, vi dicevamo, giusto? Fisico, emotivo, bla bla bla. Però se allarghiamo la prospettiva e iniziamo a guardare dal medio-lungo termine, probabilmente il continuare a restare in zona di comfort e quindi non fare attività fisica potrebbe non essere il massimo per me. D'accordo? Però il fine, non so come dire, l'intenzione di questa resistenza non è negativa, è di salvaguardia. D'accordo? Cioè non è qualcosa da estirpare, è qualcosa da salvaguardare perché serve. Cioè per noi non essere bandieruoli al vento e non cambiare, faccio l'esempio, opinione in continuazione è molto importante, siete d'accordo? Cioè è anche indice di sanità mentale. Penso che se qualcuno di voi qui in aula, Cristiano se n'è andato che è psicoterapeuta, però se qualcuno di voi ha competenze psicologiche e magari psicoterapiche, probabilmente ci direbbe che se una persona vive dei cambiamenti repentini dall'oggi al domani su un comportamento, su uno stato emotivo, su una convinzione, non è probabilmente indice di sanità, probabilmente siamo di fronte anche a un disturbo, potremmo essere di fronte a un disturbo. Ci direi su questo? Quindi il fatto che siamo in qualche modo spesso in equilibrio e ci costa un po' fatica a uscire fuori è buono, non è buono nel medio-lungo termine, perché il fatto che una persona magari riproponga un bambino o una classe, ripropongano degli schemi che per loro sono confortevoli nel brevissimo termine e lo riproponga nel tempo, inizia a diventare disfunzionale, per noi e anche per loro. Fatemi decenni. Tipo? Ok, quindi se è un comportamento proprio valoriale di credo, Giulia fa l'esempio. Ok. Diventa vegetariano, diventa vegano, diventa carnivoro, diventa quello che ti pare. Ok, ci sta. Tu dici però per una cosa che razionalmente potrei sapere essere utile per me, ci starebbe. Sì, ma razionalmente... Non perdiamo punti. Ok? Se io dico a un bambino, dai, adesso siediti e fai un bel respirone. Ma se questo già ci ha provato, oppure se non... Cioè... No? Avete mai provato a dire a qualcuno, calmati? Figo, no? Proprio funziona, proprio lo consigliano. Nei manuali di calmevolezza scientifica dicono, prima cosa tu di, calmati. Poi se non si calma, urlagli, calmati, calmati, due volte. Se vedi che non risponde, prova a cambiare lingua. No? Dice... Be calm, no? Com'è che dice? Stay... Com'è che dice? Keep calm, grazie. Keep calm. Keep calm and carry on. Eh, stocca. Cioè, sotto ti verrebbe a scrivere... Sapete che è la regina, no? Che è la casa reale che durante... Cos'era? La seconda guerra mondiale? Durante i bombardamenti, Londra era pesantemente sotto assedio e quindi... Come dire, la casa reale aveva pensato di diffondere, di distribuire questi manifesti per provare a infondere coraggio nella popolazione. Ho capito, però, se mi fischiano i proiettili vicino alle orecchie e mi cadono le bombe vicino a casa e ogni volta spero che non sia la mia, keep calm... Insomma, non so come si dica insomma in inglese, però insomma... Com' si com' sa, dai, diciamolo in francese. Ci siamo su questo primo tipo di cambiamento? O non è che va escluso, eh? Però bisogna valutare se, ripeto, c'è accordo? Se l'altro me l'ha chiesto, se comunque ho un ruolo, che l'altro mi riconosce, e poi se ciò che dico rappresenta un elemento di novità. O la maggior parte di ciò che dico, insomma, poi non è che devo... Beh... Quindi qui occhia, non commettere errore di insistere, di ripetersi, perché se no generiamo resistenze. Bene. Poi ci sono altri due tipi di cambiamento, che sono quelli che vedete qui sulla destra, che non ingaggiano il sistema cognitivo, quindi il ragionarci su e il sapere qualcosa di nuovo, ma il cosiddetto sistema percettivo-reattivo. Che vuol dire? Vuol dire che sento in modo diverso e quindi cambio. Faccio un esempio. Ho l'abitudine di fumare. Nasce una figlia, nasce un figlio, non sempre. Poi in alcuni casi potrebbe succedere che mi cambia completamente la prospettiva, ma non è che io capisco meglio che fumare faccia male. Siete d'accordo? È che vivo in maniera completamente diversa la situazione in quel momento e quindi magari sento in modo diverso e quindi magari smetto di fumare. Oppure qualcuno magari aumenta di più il fumo perché è stressato, non lo sappiamo. Però c'è un cambiamento. Dovuto però a un sentire, una percezione di tipo differente. Questo tipo di cambiamento può essere promosso, quindi qui siamo dalla parte dei bottoni, tra virgolette, attraverso due strade. Può accadere attraverso due strade. Cosiddetto effetto catastrofe. Cambiamento catastrofico. Cioè a seguito di uno shock, di un episodio molto netto che traccia un prima e un poi, una cesura molto precisa, che può essere positivo o negativo perché può essere anche la nascita di un figlio, o potrebbe essere una diagnosi pesante. È comunque un episodio molto puntuale. Cambia completamente il sentire. D'accordo? Ora, qual è la difficoltà, tra virgolette, nel caso in cui volessimo noi promuovere un cambiamento del genere e innescarlo? Che potremmo incontrare un bel po' di resistenze. Ci siete? Perché? Perché comunque per il sistema, ritorniamo al discorso omeostasi, resistenze, è, cavoli, vivere un cambiamento così importante perché qualcuno dall'esterno me l'ha creato, non è esattamente una cosa semplice da gestire. Quindi è come se volessi generare un cambiamento molto positivo, molto funzionale, quindi immaginate voglia io creare una statua e quindi piazzo delle cariche di dinamite, le faccio esplodere e mi auguro che poi quando il polverone scende a terra ci sia sotto amore e psiche di Canova. Sì, può essere, cioè statisticamente è molto improbabile, ma potrebbe succedere, nella maggior parte dei casi di solito succede qualcos'altro, cioè ci trovo sotto delle macerie. Quindi, occhio perché può essere proprio rischioso cosa trovo sotto il polverone e poi ho scarsa prevedibilità degli effetti, dei risultati. Faccio un esempio. In ambito scolastico, probabilmente su gradi di istruzione un pochino, diciamo, di studenti più grandicelli, la bocciatura, faccio un esempio, potrebbe essere uno shock, no? Che il consiglio di classe decide di attuare e può creare dei cambiamenti nel sistema percettivo reattivo dello studente. Solo che è rischioso, nel senso che non sappiamo come la prenderà, perché ci sono studenti che dopo una bocciatura davvero svoltano in positivo e altri che magari svoltano in negativo. D'accordo? Cioè è difficile prevedere gli effetti, non c'è la formula matematica. Vi faccio un esempio. Io ho un paio di conoscenti, più che amici, che a seguito di una bocciatura, praticamente hanno aspettato semplicemente di finire l'età dell'obbligo e poi hanno abbandonato il percorso scolastico. Ho uno dei miei sette nipoti, perché ho due sorelle particolarmente attive, il secondo, Lorenzo, lo cito in continuazione, gli fischieranno le orecchie, che due anni fa ha vissuto un periodo, adesso lui fa, il primo superiore, ma è stato bocciato un anno, perché vi parlavo della sua bocciatura, e quindi ha l'età per fare il secondo superiore, quindi penso che abbia 16 anni, adesso ha compiuto a novembre 16 anni, giusto? Ci sta come età, perché se ho sette me li perdo, cioè dovrei imparare gli anni di nascita di tutti, perché ogni volta cerco di ricollocarli nelle aule, ma poi ogni anno cambiano, e quindi me li perdo. Insomma, comunque lui due anni fa ha vissuto un periodo veramente tostissimo, cioè eravamo tutti preoccupati, ovviamente i genitori in primis, i nonni, noi zii, cioè eravamo proprio preoccupati, perché a scuola proprio non ne volevano sapere, era incazzosissimo, scusate il francese, con mia sorella, ed era in lite perenne, cioè mia sorella diceva smetti di far così, lui no no no, insomma, delirio. Quell'anno è stato bocciato, ok? Alla fine di quel periodo è stato bocciato, quindi l'anno scorso, termine l'anno scorso, è stato bocciato. Lì lui ha avuto, tra virgolette, la fortuna, perché a volte è proprio fortuna, che è una serie di fortunati eventi, tra cui il padre che l'ha mandato a lavorare in campagna, perché diciamo gestisce una, cioè lavora per un'azienda che gestisce anche una casa vinicola, quindi l'ha mandato a piantare i paletti delle vigne, per penso un mese, quindi lui si svegliava la mattina prestissimo e che doveva prendere un'ora e mezza di pullman. Da Pescara doveva andare, non so, a, beh, non mi ricordo come si chiama il paese, dove c'è sta, in collina, e poi doveva stare cinque, sei ore, non lo so, sotto, una roba che, e poi doveva tornare, quindi tornava distrutto. Quando ogni tanto ci parlava, gli diceva, oh come sta andando? Perché lui all'inizio, dopo la bocciatura, era convinto che voleva andare a lavorare il prima possibile. Cioè lui per fortuna, dopo questa esplosione, dopo questo shock, diceva, no, 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 a me mi conviene studiare, perché proprio lavorare fa, cioè, è una roba assurda. Quindi lì è andata bene, però sarebbe potuto andare anche al contrario, giusto? O in altri modi. Quindi puntare ad un cambiamento di tipo catastrofico, cioè far detonare la dinamite, è proprio costoso, ci espone un rischio forte. Quindi è difficile prevedere gli effetti. Poi c'è un altro tipo di cambiamento, che ha sempre a che fare con il sistema percettivo reattivo, che è quello che chiamiamo cambiamento effetto valanga, chiamato anche cambiamento strategico. Cioè, immaginate effetto valanga, la piccola pallina di neve, che iniziando a rotolare lungo le pendici della montagna, poi diventa valanga, quindi cresce sempre di più e diventa valanga. Quindi alla fine, dopo un po' di percorso, diventa valanga, quindi diventa un cambiamento molto significativo. Però, soprattutto nelle prime fasi, io posso sempre bloccarla la pallina. Cioè, se mi accorgo che sta iniziando a puntare verso un paese, a valle, posso bloccarla finché diventa grande così o così. Ci siete? Posso un pochino di più dirigere, direzionarla. Non ho messo le cariche di dinamite e fatto detonare e staccare direttamente la valanga. Ci siamo su questo? Quindi, questi piccoli cambiamenti strategici tendono a generare poche o meno resistenze. Cioè, il sistema, l'equilibrio, che può essere la classe, o il singolo studente, o il collega, o il genitore, o noi stessi volendo, lo digeriscono molto di più. Faccio un esempio. Se io andassi dal nutrizionista, perché? Attualmente nella mia zona di comfort ho un regime alimentare un po' sballato. E il nutrizionista, da subito, mi desse la tabella alimentare da appiccicare al frigorifero, che mi stravolge qualità e quantità degli alimenti, ci siete che è più un cambiamento di che tipo? Shock? Non lo so, perché potrebbe essere che la tabella addirittura stia qui. Cioè, lui mi ha trasferito delle informazioni, dando per scontato che io le seguirò. Non è detto. Però se io riuscissi, con un senso di dovere gigantesco, a seguirle, capite che è uno stravolgimento tutto e subito? E quindi o mi costa da morire mantenerlo, oppure il rischio è che... Lavo un po' abbandono, cioè non ce la faccio più. Quindi diverso è magari quel nutrizionista che si avvale anche di approcci strategici, che magari per la prima settimana, le prime due settimane, ti chiede soltanto di tenere un diario alimentare. Dice, guarda, quello che ti chiedono, guarda, tu mangi uguale, non cambiare niente, ti chiedo semplicemente ogni volta che mangi qualcosa, o subito se hai l'occasione di appuntarla, oppure subito dopo di segnartela. Così la prossima volta mi porti questo diario e vediamo un pochino da che punto partiamo. Ci siete che questo intervento è più piccolo rispetto a stravolgi completamente quantità e qualità degli alimenti? Bene. Siete d'accordo che fa emergere delle informazioni nuove? Sia per il nutrizionista che per me? Siete d'accordo che potrebbe, mettiamo il condizionale, generare anche un intervento, cioè un cambiamento? Perché quando vi comincio a vedere tre cornetti, otto abbacchi, cinque panini con la porchetta, due tiramisù, crema catalana e cosa è? Poi chiudo con, così, un giro di spaghetto di mezzanotte, perché comunque il buchetto, non mi va ad andare a letto col buchetto, c'è una parte di me che fa, oddio, e se il giorno dopo sto per ordinare l'abbacchio insieme al cappuccino, faccio... Cioè, magari lo ordino lo stesso, però comunque, insomma, inizia a cambiare qualcosa nel mio... Tanto lo sapevo pure prima che l'abbacchio col cappuccino, non è che... Giusto? Lo sapevo, non è che non lo sapevo. Cioè, di solito è difficile una persona che mangia non proprio regolare, è perché non sa come si dovrebbe mangiare. Siete d'accordo su questo? Uno studente che non si comporta come dovrebbe, non è che non sa come vogliamo che si comporti. Il figlio che torna tardi, non è che non lo sa a che ora deve tornare. Ci siamo? Bene. Quindi, occhio perché noi molto spesso ci incastriamo qua, insistiamo, te lo spiego, te lo rispiego, te lo spiego meglio, ti faccio il cazzatone, cioè aumento la frequenza, ho l'intensità delle mie spiegazioni, e finisco con tutte le scarpe in una tentata soluzione ridondante. Quella che Paul Vazovic chiamava, anche Popper, chiamava iper-soluzione. Ma ogni buona soluzione, se in eccesso, diventa veleno. Pure le medicine, no? Prendo un'aspirina, magari, potrebbe farmi bene a seconda di come sto, se me ne prendo un blister intero, mi sa che qualche problemino potrei avercelo, giusto? Quindi l'idea è quella di, insieme, condividere. Oggi riusciremo a condividere più che altro informazioni, perché non riusciamo a far pratica, cioè purtroppo non abbiamo l'opportunità di far pratica, ma vedere quali potrebbero essere questi piccoli cambiamenti strategici per intervenire su alcuni comportamenti, tra cui anche comportamenti oppositivi. Che dite, vi va? Come idea? Noi abbiamo un'ora per far questo. Abbiamo messo delle premesse che per me erano importanti. Quindi stiamo usando uno stratagema che viene chiamato partire dopo per arrivare prima. E questo potrebbe essere molto utile anche in un intervento in classe. Se io ho urgenza che un bambino cambi comportamento, perché in alcuni casi se mette a rischio la sua sicurezza, la sicurezza di altri, devo intervenire in maniera repentina, ci mancherebbe. Lo devo proprio magari anche bloccare, se sta per scagliare qualcosa addosso a un compagno, o che ne so, si sta lanciando la finestra. Su questo penso che siamo d'accordo, anche col buonsenso immagino che si deve fare qualcosa, no? Bene. Però se non stiamo parlando di incolumità, in alcuni casi potrebbe essere più utile partire dopo per arrivare prima. E adesso vediamo che vuol dire. Come state? Dietro mi sentite? Ok. Grazie. Io che non vi vedo, siete proprio in una penombra mistica. Fra un po' parte la macchina del fumo, vero? Comincia tipo... Ok. Ora, questo l'abbiamo visto, adesso vi dico che cosa facciamo. Quali e quanti sono le resistenze al cambiamento per l'approccio strategico. Perché di solito invece le resistenze al cambiamento vengono definite come la resistenza al cambiamento. Ok? Invece la cosa interessante è che ce ne sono quattro. Diverse. E sono queste qui. Ok? Ora, abbiamo una resistenza di tipo collaborativo, una resistenza di tipo, vorrei ma non posso, adesso le vediamo, eh? Una resistenza di tipo oppositivo, qua finalmente riconosciamo una parola che c'è congeniale, o che comunque ci ha invitato a partecipare a questo workshop, e poi una resistenza di tipo ideologico, che viene definita anche nella scuola di Arezzo, non posso né collaborare né oppormi. Ora vediamo che cavolo vuol dire. Oh, davanti a ognuna di queste che cosa ci ho messo la parola? Sì? Bene, resistenza di tipo, oppure comportamento di tipo collaborativo, perché non è il bambino collaborativo, il bambino oppositivo, il bambino ideologico, il collega oppositivo, il vicino di casa ideologico, eh? Beh. Poi se ha sviluppato un'abitudine comportamentale, per cui nella sua zona di comfort gli viene più facile, più probabile avere quel tipo di comportamento, è un paio di maniche. Altrimenti, stiamo parlando di un singolo comportamento. Ci siamo? Bene. Ora, rispetto a quello che vedete alle mie spalle, c'è qualcosa che potrebbe non sconfinferarvi? Cioè di strano? Perché a me una cosa che c'è lì, a me un po' non mi, cioè, non mi quadra. Oh, collaborativo. Dice scusa, ma stiamo parlando di resistenze, che cavolo, perché collaborativo? cioè un comportamento di tipo collaborativo, ve l'eravate fatti questa domanda? Oppure eravate in fase REM, quindi, diciamo, eravate più in un momento onirico, in cui... Quindi, perché però parliamo di comportamento collaborativo? Perché, dal momento in cui noi proponiamo, o produciamo, o stimoliamo un cambiamento, diamo per scontato che una resistenza ci sia, sottovalutarla, e dire, ah ok, perfetto, questo qui non ha resistenza, perché si sta comportando in maniera collaborativa, poi vediamo come riconoscerlo, il rischio più grande è sottovalutarla e lasciarla perdere, dando per scontato che continui. Mi è mai capitato di intervenire, risolvere, si risolve per un po' e dopodiché, vi dedicate ad altro, trovate e fate, oh cavoli, no? Ma come? Due giorni fa, sembrava essersi messo in ordine, mi è capitato? Bene. Ora, con un'assistenza di tipo collaborativo, io spoilerò, oggi spoilerò, sono stato infettato da, anche Cristiano che stavamo a spoilerare, che film era? Che mi stavi per spoilerare? Ah, brava, no, non era un film, era un romanzo, sto leggendo Oliver Twist in questo periodo, e mi dice, ah sì, quello che viene alla fine, ma spoilerato, comunque sappiate che se state leggendo Oliver Twist, l'assassino è il maggiordomo, ok? Quindi così ve lo dico, mi vendico e basta. Ora, un, vedo se sta registrandosi, perché poi dopo la registrazione che sta facendo Cristiano, se vi va a piacere ve la metto a disposizione, ok? Poi vi dico come accedere, quindi se qualcuno è arrivato un pochino più tardi, se qualcuno se ne vuole andare via perché non mi sopporta più, lo capisco, ma potreste volendo infliggervi la tortura di rivedere il video, quindi sarà a vostra disposizione. dicevo, un modo poco ortodosso, ma secondo me molto efficace, di riconoscere queste resistenze, e anche sulla base, cioè oltre a capire di che si tratta, e anche sulla base delle sensazioni che proviamo noi, quando ci troviamo di fronte a quel tipo di comportamento. Ora, che vuol dire resistenza di tipo collaborativo? intanto passiamo per un cambiamento lineare cognitivo, quindi vi do un'informazione, vuol dire che chiedete di fare qualcosa di diverso rispetto a ciò che sta accadendo, chiedete di sedersi, chiedete di alzare la mano prima di intervenire, chiedete di aspettare prima di parlare, di alzare la mano prima di farlo, e così via, o chiedete a un collega di darvi una mano su un progetto, o chiedete a un genitore di magari, insomma tornare fra due settimane a colloquio, faccio un esempio, quindi chiedete a qualcuno di fare qualcosa, può essere anche un cambio di prospettiva, potrebbe succedere che magari un bambino, che ne so, inizi a dirvi, ma io maestra non ho più voglia, mi trattano tutti male, faccio un esempio, potrei avere esigenza e voglia di promuovere un cambiamento di prospettiva in quel bambino, comunque un cambiamento, da cosa mi accorgo che sono di fronte a una resistenza di tipo, collaborativo, che la persona è d'accordo, quindi mi segue, anche in quello che la sto invitando a fare, e oltre a seguirmi lo fa, cioè inizia a farlo, d'accordo? Mi viene qualche esempio? O in ambito professionale, o in ambito personale, in cui voi magari avete manifestato una resistenza di tipo collaborativo, o qualcuno accanto a voi ha manifestato una resistenza di questo tipo? Di tipo collaborativo, cioè vi segue e inizia a farlo, oppure voi avete fatto, avete iniziato proprio a fare qualcosa di diverso. Alberto, personalmente mi è in ambito professionale, le persone hanno un problema di un gioco d'azzacco, quindi vi chiedo, l'era il Bancomat, i soldi vengono gestiti da familiari, le persone dopo qualche seduta affermano, sì sì ho capito, sono guarito, non ho bisogno più di nulla, e io gli dico, avendo pochi anni, però avendo comunque alcune esperienze, di attenzione, perché sembra troppo lineare, troppo facile, e purtroppo dopo uno o due mesi la persona è complicata, perché in quel caso si è adattata. Ok, il perché vediamo, nel senso che l'approccio strategico ci invita non tanto a spiegarci il perché, però a osservare i comportamenti, quindi io potrei videoregistrare il racconto che ci ha detto Cristiano, giusto? Ovviamente andando un pochino veloce, perché magari due o tre mesi, se no sarebbe lunghi da assistere, però io mettendo magari il fast forward, quindi andando veloce, potrei vedere la persona che va in seduta da Cristiano, che è uno psicoterapeuta, quindi inizia, riceve delle indicazioni, togli il banco, ma ti dai i contanti ai tuoi familiari, li gestiscono loro, si si ok, quindi manifesta accordo, lo inizia a fare, giusto? Alcuni, benissimo, dopo un po' può succedere che cambi il comportamento, cioè torni indietro il comportamento. Ci siamo? Questa è una resistenza di tipo collaborativo. Vi fila? Bene. In ambito scolastico, fatevi un esempio. Beh, io facendo un momento di docina, in scuola, in classe c'è un paio particolarmente più vivace, cioè, che tende a fare più spesso, tende proprio qua a intervenire, anche qua, magari non dovrebbe, e, ma io posso, per me diciamo che l'ho preso totalmente a cuore, e spesso, comunque, se siete vicino a lui, magari, si chiama Bernardo, dico, beh, Bernardo, adesso, magari, nel compito, solo dopo, vai dalla maestra, e poi vedere, vanno a andare, dentro lo scuola. E vedo che, comunque, lui, si sente, in qualche modo, l'assicurato, se siete vicini a lui. Ok. il tuo nome? Claudia. Claudia dice, ve lo riassumo, perché se no, magari non l'avete sentito, cioè, Claudia dice, svolgendo il tirocinio in classe, c'è un bambino, che si chiama Bernardo, che, in alcuni momenti, ha, diciamo, dei comportamenti vivaci. Ok, a volte, Claudia, che l'ha preso abbastanza a cuore, sedendosi accanto a lui, e magari invitandolo a terminare il compito, prima di andare dalla maestra, a fargli vedere, magari l'elaborato, segue le indicazioni di Claudia. Ok? Quindi, ti chiedo di, non alzarti, perché magari ti stavi alzando, oppure di solito ti alzi, di star seduto, aspettare di terminare il elaborato, e poi di andare alla maestra. Quindi, ti chiedo un comportamento. Ci stai? Mi segui? Ok? Lo fai? Siamo di... Ok, poi dopo, qui sono anche altre dinamiche, però ci siete che stiamo di fronte a una distanza di tipo collaborativo? Bene. Domanda? Lì per lì, cioè, dopo aver dato l'indicazione, avendo visto che l'indicazione viene seguita, che sensazioni avete? Fa piacere, no? Poi immagino, pure Cristiano, non dopo tre mesi, ma quando la persona dice, ok, guarda, adesso, dottore, lo tolgo, faccio così, e avete conferma del fatto che ha tolto il banco, ma ha dato i contanti ai familiari, immagino che sia una soddisfazione. Cioè, ti faccio piacere. Bene. Quindi, tenete conto che è un indizio di che tipo di resistenza è, se stiamo parlando di una resistenza di tipo collaborativo, e che ci dà soluzione. Era lo spoiler di prima. Ok? Non è ovviamente un molto ortodosso come sistema per riconoscerle, però, è piuttosto efficace. quindi, sei a colloquio con un genitore, dici al genitore, guardi, potrebbe essere utile magari vederci con un pochino più di frequenza, quindi magari per questi primi due mesi, le chiederei di vederci ogni dieci giorni, due settimane, la persona vi dice, ok, e inizia a venire ogni dieci giorni. Immagino che vi dia soddisfazione, giusto? Cioè, vi fa piacere? Oh, ok, è grazie, no, è grazie perché c'è, ho paura, ma all'Aquila ve lo fanno fa così? Sì, non è che, cioè, eh, è che cavolo, io, bene, quindi c'è la soddisfazione, che cavolo dobbiamo fare con una resistenza di questo tipo? Poi dopo ci entriamo più nello specifico, eh? Dobbiamo, ah no, aspetta, prima le tutte le, mannaggia, vi spoilerò in continuazione, credevo che uscisse prima giù, ok. Poi, resistenza di tipo, vorrei ma non posso, vediamo che cavolo vuol dire. Qui ci sono due elementi, vorrei, ma non posso, benissimo. Ora, che vuol dire vorrei ma non posso? Vuol dire che, voi chiedete, faccio l'esempio, a un bambino di, non tirare i pizzicotti a quello accanto, ok? Mentre glielo dite, e magari ne parlate, o non nell'immediato, oppure magari anche dopo, a fine della, della lezione, lo prendete un attimo in corridoio, oppure durante la ricazione gliene parlate, il vorrei c'è, cioè vuol dire che quando ne parlate, cioè in termini, diciamo così, razionali, la persona, o il bambino, o, è d'accordo con voi, cioè non è che vi dice, no, io perché, eh no, io perché, è lui che mi ha dato il pizzicotto, cioè quindi, ha un po' l'atteggiamento di chi dice, ha ragione maestra, oppure, eh lo so, avete presente? Quindi vorrebbe, ma non può, non ce la fa, non ha le risorse ad oggi, per non tirare il pizzicotto, che sembra strano, però potrebbe essere, non ha le risorse, in alcuni casi, legate all'educazione, in altri casi emotive, perché magari vive, che ne so, una sovracitazione, no, sovracitazione in termini, diciamo, emotivi, e quindi, che ne so, tira vizzicotti un pochino in giro, o altro, ci siamo? o magari non ha altre abilità comportamentali, per comunicare col compagno di banco, ora, non gli interessa tanto interpretare il perché e il per come, semplicemente notiamo che, c'è un vorrei, quindi ve ne accorgete, perché parlandoci, non entrate in dibattito, o in contrasto, vi dà tra virgolette ragione, ma non ce la fa, sa che dovrebbe stare seduto, ma ogni tanto gli viene ad alzarsi, bene, domanda, che sensazione ci dà? Qualcuno l'ha letta, quelli dietro no, perché non ci arrivano a vedere forse, quindi che sensazione ci dà? Se abbiamo di fronte una persona che, Cauri lo sa che dovrebbe cambiare, ma in questo momento non ce la fa, non ci riesce, ok, allora il nervoso di solito alla lunga ci viene, ma facciamo finta che sia una delle prime volte, siamo più sul, ti dispiace, cioè c'è una parte che dice, mannaggia, porca miseria, gli vorrei dare una mano, perché comunque, ripeto, vorrebbe, cioè non è che è un, e no, e perché, perché a me, perché lo dici solo a me, dovrebbe dirlo pure a Francesca che sta sempre in piedi, non è questo, lo so, avete l'amico o l'amica, che sta con uno o con una, che lo tratta male, e magari tra i vari consigli, a un certo punto è uscito pure il, cavoli, lasciatevi, oppure parlaci, o è, e questi dice, lo so, lo dovrei fare, adesso, eh, e poi dopo vi ritrovate, ci hai parlato, ed è, se è la ventesima volta, un po' di nervoso, come dice Giulia, ti viene, però le prime volte ti dispiace, perché ci, porca miseria, non ce la fa, ce l'avete? L'avete agganciata a questo tipo di resistenza? Bene, quindi, ci intenerisce, ci dispiace, ci dispiace, poi c'è la resistenza di tipo positivo, oh, mo' occhio qua, perché vi potrebbe prendere un po' la transagonistica di oppositivo, e vi si accende la lampadina, però cerchiamo di individuarlo bene, una resistenza di tipo positivo, si manifesta quando, siete di fronte a una squalifica, della richiesta che avete fatto, ma è una squalifica di quella richiesta, tipo, eh, guarda, Alice, non sottolineare tutte le parole, tutte le paroline, ma cerchiamo insieme le, che ne so, le parole chiave, ok? Eh no, ma io, perché io voglio sottolineare tutto, eh no, perché io mi trovo meglio a sottolineare tutto, no, 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 non funziona sottolineare le parole, io ci ho provato, non va bene, vi sta squalificando cosa? Il sistema scolastico? No, quel consiglio, quella richiesta che avete fatto, giusto? Bene, oppure, fate una proposta a un collega, cioè, guarda, vorrei quest'anno proporre il laboratorio di musica, che abbiamo fatto due anni, due anni fa, mi farebbe piacere? No, guarda, lascia stare, perché i laboratori, guarda, poi tra l'altro, in particolare quello di musica, due anni fa, ci ha creato un bel po' di difficoltà, quindi, no, eh, ma poi guarda, e se poi dopo i genitori non, no, ma poi dopo, ci siete che sono delle, traviette squalifiche, cioè, delle resistenze tipo positivo, ma sulla fattispecie, non siamo passati ai massimi sistemi, ci siete? Ci siete? che sensazioni vi dà? Qua non vi ho spoilerato, quindi adesso ce la facciamo, che sensazioni? Come? Ok, tuo rifiuto, dici? Sì, e quello, diciamo, è quello che tu, traviette, ci leggi dall'altra parte, ma che sensazioni hai tu? Cioè, cosa vivi tu? Cioè, se uno ha, spesso, no, sulla tua proposta, ti fa sempre le pulci, ti fa, eh no, eh no, ma guarda che, eh no, ci abbiamo già provato, no, questo sicuro non funziona, cioè, dopo un po'. Ci siete? Fa venire i nervi? Ecco, quindi questo ci fa venire i nervi proprio, ci fa saltare i nervi? Ce l'abbiamo? Ce l'avete? Ok. Ce l'avete quell'amico che gli proponete il film al cinema e fa, eh no, questo però, eh no, questo dura troppo, eh no, questo spettacolo è troppo tardi. Ah no, 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 ma a me film d'amore non mi, eh ho capito, però ero, cioè dopo un po' dice, oh, ce l'avete? A volte siamo noi quelli che facciamo il bastiano contrario, eh? Quindi, se siete amici di voi stessi, ce l'avete quella persona. Bene. Poi c'è un'altra resistenza, che è quella che viene definita, della scuola d'Arezzo, non può né collaborare né opporsi, noi per tradurla in maniera un pochino più, eh, comprensibile, chiamiamo ideologico, quindi resistenza di tipo ideologico, è quella che, oppone delle resistenze, cioè, diciamo, vi mette in contraddittorio, ma non sulla fattispecie, ma, su temi più generali, tipo, l'amico non vi squalifica il film, ma il fatto che, eh ho capito, ma sempre al cinema dobbiamo andare, cioè, a sto punto facciamo come amici sempre le stesse cose, cioè, vuol dire non essere più un gruppo di amici affiatato, cioè, che tu stai, è ripartito dal film, siamo passati a parlare dell'amicizia, vi siete mai trovati di fronte alla situazione del genere? Oppure, che ne so, magari fate una proposta a un collega di fare un laboratorio insieme, e collega di, oppure, mi è capitato, con un gruppo di insegnanti dell'ufficio scolastico provinciale di Rimini, proprio qualche giorno fa, dovevo rincontrarli mercoledì, quindi dopo domani, la volta scorsa un'insegnante diceva, per esempio, a me è capitato di fare una proposta nel gruppo Whatsapp dei colleghi, di raccogliere i soldi adesso per Natale e fare un regalo agli educatori, che loro mi pare che abbiano 5-6 educatori nell'istituto dove lavorano, e un paio, un collega, due colleghi, nel gruppo hanno detto, eh sì, vabbè, il regalo dovrebbero farlo a noi, guarda che loro stanno lavorando, ci siete? Quindi non è tanto non mi piace il regalo che hai scelto, oppure, eh ma poi è complicato come facciamo a prendere i soldi, quindi non è stato sul raccogliere soldi e fare il regalo, ma siamo passati su principi un po' più alti, giustizia, il lavoro, allora dovrebbero farlo anche a noi, non è che, come dire, gliel'ha comandato il medico, lo stanno, ci siete? bene, che sensazioni abbiamo nel confrontarci con una persona che ci risponde su temi diversi? Dopo un po', sì, sto muro di colma, che sensazione ci dà dell'altro? Dopo un po' tu dici, ma tu torni a casa la sera e ne parli con la tua amica, col coinquilino, col compagno, con la compagna e gli dici, Dio, ma è capitato sta cosa, a me questo qua mi sembra? Sì, matto, un po' scemo, scusate che non è proprio ortodosso, però l'altro ci sembra un po' stupido, avete presente quando dici ma di che stiamo parlando? Ma signora, ma io non le stavo dicendo che, cioè non stavamo parlando del, beh, mi è capitato? Sì? Bene, ok, quindi, prima cosa in assoluto, prima cosa in assoluto, parlare di comportamenti disfunzionali e addirittura magari metterli sotto la, diciamo, il cappello del comportamento positivo provocatorio rischia di farci confondere la resistenza di tipo positivo non tanto con una resistenza di tipo collaborativo perché sono molto diverse, ma addirittura con questa o con questa, cioè col vorrei ma non posso o con l'ideologico. Faccio un esempio, io vedo un bambino che nonostante gli abbia ripetuto più volte di sedersi continua ad alzarsi, potrebbe essere anche, ripeto, un vorrei ma non posso in quel momento, giusto? E' solo che alla lunga comunque ci fa saltare i nervi lo stesso, perché ci mette alla prova, quindi lì rischiamo di confonderci in termini proprio di logica che è alla base del comportamento, d'accordo? Quindi qui dobbiamo essere proprio abiti a fare, proprio a sondare un po', cioè a fare dei microesperimenti con il comportamento, provare a smuoverlo un pochino e vedere che tipo di resistenza ci dà, perché a seconda del tipo di resistenza abbiamo degli stratagemmi di tipo diverso, ok? Quindi questi sono gli stratagemmi, adesso li vediamo insieme, che cosa vogliono dire? Finora ditemi se è chiaro, se avete dubbi, domande, perplessità, conati di vomito, malesseri, giramenti di tè, tutto ok? Sì? 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 Allora, il nome? Ah sì, sì, sempre tu Simona, quindi Simona dice che faccio se mi trovo di fronte per esempio a un comportamento per cui un bambino lancia oggetti, magari non sta mettendo a rischio nessuno perché il rischio non è tanto che ferisca qualcuno ma al limite che l'oggetto si rompa, possa rompersi, che faccio? Lo lascio fare perché dovrei prima sondare e capire di che resistenza, con che resistenza ho a che fare? Questo è il dilemma non del prigioniero ma dell'educatore o del genitore. Faccio l'esempio, io adesso ho una bimba di un anno e tre mesi e il mio dilemma continuo e costante è quando vado al ficus e lo martoria, ok? Che faccio? La blocco perché sennò gli rompe le foglie o cerco di più che intervenire sul singolo comportamento su un processo educativo di medio-lungo termine? io la risposta non ce l'ho o meglio c'ho una risposta teorica che mi verrebbe da dire Napoleone diceva siccome ho molta fretta di fare in modo che il ficus sopravviva ok? Che lui aveva dei ficus sapete era appassionato di ficus Napoleone siccome ho molta fretta vado molto piano quindi in termini strategici se ci alziamo di prospettiva e diciamo guardiamo non il singolo giorno o la singola ora di lezione ma l'anno scolastico o addirittura il ciclo a me verrebbe da dire che sarebbe preferibile dare priorità a un intervento strategico che in alcuni casi prevede anche che in quel momento lo fai per tutelare l'oggetto che magari non si rompa o non si ammacchi un po' ma non tanto per fare in modo che il bambino domani lo faccia con minor probabilità quel gesto ok? quindi io io personalmente ammetto che a volte sono spazientito prendo mia figlia la alzo e la sposto dal ficus perché mi piange il cuore a vederlo tutto così voraccio ok? altre volte cerco di trovare strategie un pochino diverse quindi non c'è la risposta perché la risposta non c'è dipende pure da quante risorse emotive noi abbiamo in quel momento perché probabilmente non fermarla e fare un altro intervento adesso vorrei avvicinarmi a dirvi quali sono gli stratagemmi è fuori dalla nostra zona di comfort e dentro la nostra zona di apprendimento quindi ci costa fatica se sono arrivato magari stanco dal lavoro e ovviamente poca benzina poche risorse a volte vado più per la direttissima la prendo e la sposto ma perché lì non sto facendo la cosa giusta nel medio lungo ma la cosa giusta nel breve perché altrimenti vorrebbe dire che il padre diventa sclerotico e poi magari peggiora domani quindi lì mi salvaguardo e salvaguardo la nostra relazione quindi taglio corto oppure quando andiamo fuori col cane la sera e lei puntualmente cammina nell'erba bagnata e poi dopo bagnano i piedi poi rischia di affreddarsi visto che è un mocciolino continuo perché va al nido e lì ci sono volte in cui la alzo e la sposto quindi la rimetto sulla stradina sulla pista ciclabile oppure altre volte che ci lavora in maniera un po' succede chissà che cioè comunque la flessibilità dei bambini e l'elasticità ce la perdona dobbiamo forse perdonarci noi cioè essere un pochino più leggeri anche d'animo nel sapere già in anticipo che non faremo sempre la cosa giusta ok? quindi noi adesso stiamo facendo il concentrato di pomodoro poi il concentrato di pomodoro va diluito ci sono volte in cui magari neanche lo usi perché preferisci la pasta in bianco che è il mal di pancia non so se ho risposto Simona ok ora vi va di vedere che cosa vogliono dire quei simboletti lì sotto? bene allora resistenza di tipo collaborativo ci siamo già detti che ci dà soddisfazione quindi la persona è d'accordo con noi e già inizia a fare quello che dobbiamo fare è tirar fuori il metro da sarto cioè che vuol dire? vuol dire che dobbiamo iniziare a misurare ricordatevi questa roba qua cosa vuol dire? vuol dire che la prima cosa da fare è accogliere la collaborazione e ringraziare ok? quindi cioè ditelo proprio cioè valorizzate il fatto che la persona vi stia seguendo quindi se state rivolgendo via un adulto lo fate in un certo modo con un bambino lo fate in un altro però ci deve essere quel accolgo la tua collaborazione e ti ringrazio cioè le do valore poi la cosa che dobbiamo assolutamente non trascurare perché è il fulcro di questo tipo di resistenza è dividere in dei passaggi diciamo intermedi e misurabili per quello il metro da sarto il cambiamento che vogliamo che abbiamo chiesto ok? in modo da poter tenere monitorato l'avanzamento lavori diciamo così e la cosa importante è che bisogna bisognerebbe subito fissare un primo appuntamento di verifica di controllo ovviamente l'appuntamento non è formale con un bambino non è che dico ok allora caro Martino adesso prendi la tua agenda elettronica ok? e segna in agenda che ci rivediamo fra due giorni lavorativi eh? mi raccomando Martino no cioè lì l'appuntamento sarà noi tornare da e vedere come sta andando la cosa con un genitore sì che possiamo prendere un appuntamento e allora signora le va allora se ci sentiamo fra ci vediamo fra dieci giorni o ci sentiamo fra una settimana tenete conto che se in quel momento la resistenza è di tipo collaborativo a questa domanda che risposta potreste ottenere? sì giusto perché se becchiamo un no abbiamo letto male la resistenza ok? l'abbiamo semplicemente vista male prima ma non succede niente ci siamo fin qui? quindi lo stratagemma che utilizziamo è quello del mettere un piede nella porta per poi dopo farci spazio con tutto il corpo ok? quindi non spalanchiamo la porta con una spallata che vorrebbe dire dare per scontato che ormai è fatta ok perfetto questa manetta di sì ha cominciato bene ciao non la dimentico poi è una strategia indiretta per fare in modo che il nostro interrogatore quindi il bambino il genitore l'adulto il collega chi vi pare riesca a compiere quell'attività indiretta che ho pensato per lui che solitamente invece è fuori dalla sua portata però senza che se ne accorga faccio un esempio se un bambino che ha difficoltà a che ne so star fermo e sedersi ma non perché quando gli dico per favore guarda siediti mi dice no perché lo dici a me eh no ma ce l'avete tutti con me che sarebbero due resistenze di tipo diverso giusto? ma è d'accordo con voi solo che non ce la fa si rialza quello che potremmo fare è inventarci una piccola attività da fargli fare che lo distragga dalla richiesta iniziale cioè lo star seduto ma che lo porti a stare seduto anche leggermente più a lungo rispetto a prima quindi magari ti chiedo di segnare che ne so scriverti che ne so tutti dico una scemenza il colore delle scarpe dei tuoi compagni di classe ok? dico una scemenza che non ci azzecca niente con lo star seduti giusto? però magari ti chiedo tu segnatele ok? controlla tutti nero grigio fucsia quell'altro tutti colori diversi però mentre lo stai segnando e stai facendo una cosa completamente diversa nel frattempo stai seduto ci siete su questo? quindi la manovra indiretta quindi solcare il mare all'insavuta del cielo non se ne deve accorgere il cielo è proprio per fare in modo che nel tempo segnando il colore delle scarpe ma nel frattempo stando seduto la persona alleni la capacità di star seduto un pochino più a lungo non vi aspettate degli stravolgimenti repentini d'accordo? ricordatevi piccoli cambiamenti strategici se ho molta fretta vado molto piano d'accordo? tra l'altro tenete conto che di solito la progressione dello sviluppo abilità è geometrica cioè nel senso all'inizio parte che sembra che non si muove mai perché è una funzione esponenziale quindi all'inizio dicevo debbo la notte qua non ci smuovemo più poi però a un certo punto comincio a salire anche abbastanza velocemente quindi qui bisogna un'utilità fiducia sia nella strategia nelle proprie capacità e nelle proprie risorse perché a volte è tosta tener duro e anche nelle risorse dell'altro ci siamo su questo? vi vengono degli esempi magari di volte in cui voi stessi anche da soli vi siete tra virgolette autoingannati ma in modo positivo e funzionale creando una sorta di vostro cavallo di troia qualcuno magari sull'attività fisica ha trovato un espediente per fare attività fisica che all'inizio gli costava fatica ma in un modo un po' diverso che l'ha reso meno pesante bene fare sicchietta davanti a Netflix c'è qualcuno che l'ha fatto? c'è qualcuno che corre con la musica o corre con gli audiolibri? io lì tra virgolette mi sto da solo ovviamente distraendo da qualcosa che se facessi tutto e subito mi romperebbe le scatole da morire in modo nel frattempo da sviluppare anche la verità aerobica ma anche proprio l'abitudine di fare la borsa di sfarla far velocemente incastrare coi tempi che altrimenti mi costerebbe un bel po' quindi mi distraggo ci siete? quindi qui torno da Simona probabilmente non è che vi viene subito l'idea probabilmente dovete rimandare verificare che siamo di fronte a resistenza di tipo vorrei ma non posso e farvi venire delle idee da proporre il giorno dopo non tutte funzioneranno ripeto però datevi tempo perché all'inizio non ci sono i fuochi d'artificio i cambiamenti eclatanti ci siamo su questo? la resistenza successiva che di tipo positivo e che ci dà come sensazione quale? i nervi cioè non mi dimentico questa che sembra quella più difficile ma in realtà se vi posso dire però è la mia esperienza a mio punto di vista è una delle più semplici da gestire se la riconoscete e se avete la strategia ovviamente in questo caso dobbiamo uccidere il serpente col suo stesso veleno che dà anche soddisfazione che vuol dire? vuol dire che allora a spiegarla un po' cervellotica ma poi dopo ci facciamo gli esempi e mi auguro che si chiarisca vi parlo di mio padre sempre quello di quello strano allora mio padre tende come abitudine ad avere spesso una resistenza di questo tipo cioè nel senso mio padre proprio cioè tu neanche finisci di fare papà no ti dice no subito cioè senti no eh no 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 tipo per esempio faccio un esempio abbiamo regalato una bicicletta tra l'altro l'anno scorso lui è di febbraio quindi quasi un anno fa e in vista della primavera così va io le mie sorelle e mia madre abbiamo raccolto i soldi e abbiamo dato la bicicletta ogni volta dico opa ma la stai usando la bicicletta eh no fa freddo eh no tira vento eh no fa caldo d'estate faceva caldo eh no ogni volta è no è no è no è spesso no 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 non sempre ma spesso è no 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 io a volte mi diverto quando torno a trovarli e a tavola mi dico dentro di me allora quasi quasi provo a non fargli usare il parmigiano proprio scemenze io mi diverto così la mia vita è triste quindi mi diverto così che volete quindi che dico faccio me lo metto io poi gli faccio eh papà vuoi anche tu vero no 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 non mi va di mischiare i sapori poi un'altra volta dico ok voglio invece farglielo mettere il parmigiano allora io me lo metto e poi gli faccio papà tu non lo vuoi vero no da mi fa massaggiare ok funziona sempre no però in una buona parte delle volte vi dico che funziona sempre perché la mia vita è triste è proprio un diario di osservazione etologica dei padri nel mondo non è vero eh scherzo però davvero spesso funziona quindi quello che dobbiamo fare è creare si dice un doppio legame ok un doppio legame funzionale cioè che cavolo vuol dire vuol dire che cosa un po' cervellotica eh chiedo a chi ho di fronte e che in quel momento mi squalifica la proposta non parte per la tangente sulle questioni ideologiche gli chiedo di fare quello che voglio che smetta di fare o che non faccia ci siamo? mi sei incastrato l'omino nel cervello com'è che lo diceva quello un po' di anni fa quindi ti chiedo di fare quello che voglio che tu non faccia poi dobbiamo mettere un attimo di premesse dobbiamo stare attenti a non renderla squalificante faccio un esempio chiedo a un bimbo il comportamento è si alza e fa vada al compagno e gli riprende l'astuccio gli chiedo guarda Francesco ho notato che ogni tanto ti alzi e ti chiedo di non andare da sempre da Corrado e prendergli l'astuccio se no poi dopo lo vedi che lui si arrabbia eh no ma io però perché beh no me l'ha dato me l'ha fatto anche lui e no io quindi c'è un rispetto tipo positivo diciamo abbiamo subodorata quello che dovremmo fare è tra virgolette adesso aspettate chiedergli di prendere l'astuccio a Corrado però fermi perché se no sembrerebbe provocatorio della serie ah sì sì dai Francesco alzati pure vai alzati non lo faremmo così giusto? perché comunque la relazione è da preservare quindi quello che possiamo fare è trovare un modo per qui ve lo dovete inventare quindi torno da Simone a dire aspettate un attimo magari non vi viene subito 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 soprattutto le prime volte dobbiamo trovare un modo di far sì che quel comportamento che noi vorremmo nel tempo ridurre cioè l'alzarsi magari o una parte di quel comportamento quindi anche solo l'alzarsi non poi arrivare a prendere gli oggetti dei compagni sia proposto a Francesco come un aiuto che vi dà quindi una cosa che potrebbe essere che mi viene in mente è a quattro occhi non lo fate davanti a tutto il gruppo classico perché probabilmente se non avete tempo a quattro occhi prendetevi tre quattro minuti per dire oh Francesco ho notato che stamattina si è alzato due tre volte si è andato verso Corrado e hai preso l'astuccio guarda ti dico quindi io farei pure un po' di autorivelazione quindi guarda ti dico a me la cosa non è che mi faccia proprio piacere piacere perché un po' insomma lo vedi che io un pochino mi agito comunque mi dà un pochino da lavorare di più però però ho notato che in un certo senso la cosa mi aiuta perché ogni volta che tu ti alzi io mi accorgo prima del fatto che magari possiamo fare un'attività un po' diversa con la classe e quindi è come se tu fossi un termometro per me quindi mi dai una grande mano e la cosa che ti chiedo è anche domani per favore ogni volta che ti viene ad alzarti alzati così io mi accorgo prima del fatto che magari è arrivato il momento di fare delle cose un pochino diverse siete d'accordo che è una supercazzola giusto? perché a noi comunque la cosa ci dà fastidio siamo arrivati anche abbastanza al limite però qui noi dobbiamo trovare un modo di credibile ma anche autentico che sia per il bene anche del bimbo e dell'equilibrio della classe di agganciare quel comportamento disfunzionale che vogliamo ridurre a un'intenzione positiva cioè a una collaborazione che voi potreste tessere con lui e lì le possibilità sono due dopo che avete fatto questa richiesta a Francesco quali sono le due possibilità? che lui il giorno dopo cioè voi gli avete chiesto guarda mi raccomando allora tu quando ti viene alzati così io me ne accorgo e mi dai una mano ok? le possibilità sono due che il giorno dopo Francesco o si alzi giusto? cioè nel senso si alza oppure non si alzi giusto? o si alzi un po' meno doppio legame vuol dire che in entrambi i casi abbiamo vinto perché se si alza tanto lo faceva pure prima giusto? quindi a voi in termini proprio di conduzione dell'aula non è che vi cambia granché cioè non migliora ma non peggiora manco tanto lo faceva pure prima giusto? però cos'è che è cambiato di fondamentale? che non lo fa per provocarci ma manco prima magari lo faceva per provocarci non lo sappiamo però quantomeno se lo fa c'è un accordo che poi dovremo rinnovare ogni tanto dopo adesso vediamo come per cui se lo fa che cosa sta facendo nel frattempo? ci sta dando una mano giusto? quindi questa resistenza comincia pian pianino a trasformarsi in resistenza di tipo? ci siamo? bene e col collaborativo che cosa tiriamo fuori? il metro quindi poi dopo dobbiamo se il bambino ha accolto la nostra richiesta iniziare a spezzettare e a creare dei piccoli cambiamenti starà facendo quindi magari potremmo dopo una settimana faccio un esempio aggiungere dicendo oh guarda Francesco grazie perché sti 5-6 giorni è capitato qualche volta che ti sei alzato e questa cosa mi ha aiutato un sacco guarda ti posso chiedere un'altra cortesia potresti prima di alzarti farmi un cenno? così me ne accorgo ancora meglio? cioè state costruendo una collaborazione pur su un comportamento disfunzionale ma state creando collaborazione che è la cosa forse più preziosa perché soprattutto nel medio lungo termine chi se ne frega del fatto che si alza per ora probabilmente è più importante avere a disposizione un po' di collaborazione in più ci siamo? se invece Francesco il giorno dopo non si dovesse alzare perché dice no io la maestra non mi vai ad aiutarla non mi alzo come? abbiamo comunque ottenuto un comportamento positivo perché smette di alzarsi o quantomeno riduce per questo si chiama doppio legame funzionale ci siamo? ok? ovviamente non stiamo pretendendo di aver trovato la formula matematica perché non siamo in un campo di scienze esatte siete scienze umane cioè vuol dire che ci sono mille variabili mille cause e con cause quindi non stiamo pretendendo di dire il 100% dei comportamenti di tipo positivo saranno risolti dalla strategia del doppio legame no però ci riduciamo un po' di quei fegati che si gonfiano ci siamo? sull'ultimo tipo di resistenza dovremmo usare uno stratagemma che però qui spalanca un nuovo capitolone che oggi non riusciamo a trattare che è quello della comunicazione strategica che è lo stratagemma del saggio che si finge stolto cioè con chi ha un punto di vista ideologico diverso dal nostro perché mette in campo ripeto i massimi sistemi giusto? vi faccio un esempio sette anni fa quando io e mia moglie abbiamo deciso non eravamo ancora sposati abbiamo deciso di andare a convivere insieme a Imola per la famiglia d'origine in particolare il ramo materno in particolare la nonna di mia moglie la nonna Lilli Liliana originaria di un paesino del Molise emigrata in Svizzera faceva la sarta faceva otto chilometri andare per portare le figlie passando per i laghi ghiacciati il libro cuore è peggio immaginate quello peggio è proprio quindi un'esperienza non so comunque una cultura completamente diversa quando abbiamo deciso di andare a convivere insieme a Imola ma proprio cioè ma a livello che ha tolto il saluto alla nipote e quando in qualche volta abbiamo provato indirettamente a parlare cioè lì siete d'accordo che c'erano due ideologie completamente diverse alla lunga a me non lo nascondo la sensazione che avevo è cioè ma non mi permettevo di dire questa è stupida perché no però cioè non riuscivo proprio cioè eravamo due rette sghembe questo è lo spirito di mio padre che si impossessa di me del matematico cioè due cioè proprio due modi di vedere le cose completamente diversi che probabilmente reciprocamente ci facevano percepire l'altro come fuori luogo fuori contesto fuori dai tempi fuori dal mondo dici tu proprio stai fuori ok ora lì probabilmente nessun tipo di intervento come dire diretto o di proposta avrebbe sortito effetti ma a ristrutturare eventualmente il modo in cui avremmo ci saremmo confrontati ma non l'abbiamo fatto cioè io e la nonna di mia moglie ci saremmo confrontati sulla questione e sarebbe stato probabilmente un processo molto lento da lumachina ok che prevede questi step che non facciamo in tempo a vedere che compongono insieme quello che viene definito processo persuasorio lì in basso a sinistra vi ho messo la faccia di uno cinese dell'antica Cina che nella mia testa dovrebbe rappresentare il consigliere dell'imperatore cinese cosa facevano i consiglieri dell'imperatore cinese i poverini secoli e secoli fa questi qui dovevano servire l'imperatore che era considerato una divinità pensate che non potevano neanche essere guardati negli occhi però poverini questi qua dovevano fare i consiglieri e dargli dei consigli quindi se non avessero avuto dei buoni consigli che gli sarebbe successo? a fette sostituito nuovo consigliere se avessero provato a dare dei consigli all'imperatore che gli sarebbe successo? sss tra a fette perché? perché tu umile consigliere com'è possibile che ne sei più di me che sono il divino imperatore col cavolo quindi poracci questi qui stavano in una trappola mortale praticamente ma nel tempo e poi di generazione in generazione hanno trasmesso l'abilità e lo stile di comunicazione con l'imperatore di tipo persuasorio che vuol dire che quando l'imperatore dialogava con i propri consiglieri guarda caso poi aveva ottime idee ok? quindi sarebbe da andare in quella direzione potendo anche non travestirci dall'antico cinese questo è un grande vantaggio perché se no sarebbe un po' complicato immaginate di dovervi mettere tutti insomma sarebbe un po' strano quindi dialogare e relazionarci con qualcuno che ha un punto di vista molto diverso dal nostro e che spesso fa appello anche a ideologia a valori cioè a robe difficili da smuovere altrimenti e che però impediscono quel cambiamento e quindi creano delle resistenze un bel po' importanti potrebbe essere gestito ripeto attraverso un modo diverso di comunicare ok? che prevede quattro fasi raccogliere informazioni creare raccordo raccogliere informazioni creare raccordo vedete che quelle prime due fasi si ripetono un po' di volte e poi mettere il dubbio mettere la pulce nell'orecchio e fare in modo che dopo la persona dica ah sai che ho pensato guarda caso ok? come state? sufficientemente male? normali? normali? ok ora noi abbiamo un quarto d'ora se c'è qualcuno che gli si trasforma la carrozza in zucca alle 13 vi prego di andare perché altrimenti poi i topini le cose sapete no? chi era quella cenerentola se non sbaglio e altrimenti io vorrei usare questo quarto d'ora con voi per uno dirvi come scaricare il materiale perché potete scaricare le slide degli articoli di approfondimento delle informazioni tra l'altro su un evento che si terrà a gennaio a Roma che vedrà Giorgio Nardone in persona proporre il cambiamento strategico e tenere un workshop di una giornata su questo tema quindi da chi l'ha sviluppato questo approccio e poi i video che però mi dovete dare tempo di riversarli perché poi devo unire l'audio che sto mettendo qua sul registratore col video che grazie Cristiano sta girando lui e poi dopo ve lo metto a disposizione ci metterò a 3-4 giorni ve lo anticipo almeno ok come fare vi do questa informazione e poi facciamo un pochino di domande se vi va ok